Ciao a tutti! Oggi è mercoledì 10 ottobre 2018. Il nostro riscaldamento di oggi prevede 3 round 4 time di 400 metri di corsa, 10 push-up e 10 squat. Perché tengo questo kettlebell di questa nota, la marca americana, in mano? Perché poi avremo un test e dovremo fare 100 kettlebell snatch, cambiando di mano ad ogni snatch, ovviamente 4 time. Segnatevi il risultato perché è molto importante. Poi, avremo 15 minuti in hour-up del seguente world, 15 tons to bar, 15 kettlebell reverse lunges e per concludere 9 kettlebell long cycle, cioè i clean and jerk, pesi e tutto il resto, come al solito, sulla grafica qui di fianco. Se riuscite a sopravvivere, ci vediamo domani. Ciao!